I cavalli della prima corsa ritornano agli ordini dello starter dopo un primo tentativo annullato quando mancava ancora tanto allo stacco. Ricordiamo non partente il numero 6 Zizan, ritiro di Vugambi numero 10, quindi restano in 9 in questa prova per anziani di categoria F affidati ai gentlemen. In prima fila Brioferm, Zingaro Doc, Alighieri Clà, Aglianic MDM, Agodoc, Ciclone Griff, Always B. In seconda Zio Carlo Jet, Big Band LF. Non partecipa al lancio Ciclone Griff. Agodoc il più sollecito, mentre Brioferm rientra al resto della compagnia. Always B, che partiva a largo dello schieramento, prova a convergere in terza posizione, ma c'è l'inserimento di Zingaro Doc. La mette subito sul ritmo Agodoc e percorre i due cento iniziali in 13 e 3. Notevole anche il quarto d'Abbrivio in 28 e 2. Agodoc e Francesco Pepe. Adesso si fa gestire Agodoc. Brioferm in seconda posizione, Zingaro Doc in terza, poi Always B. Con a largo Alighieri Clà, che retrocede in quinta posizione. 43 e 6, 600. Agodoc, Brioferm, Zingaro Doc, Always B. 800 metri in un minuto scarso, con 16 e 2 di frazione in curva. Tornate ad allungare sulla dritta opposta il leader, trascinandosi Brioferm. Fanno fatica ad inserirsi gli altri sul cambio di ritmo del battistrata, chilometro in 1,15. Sposta ai suoi fianchi Brioferm. Poi Zingaro Doc sul passo. Tre quarti di miglio in 1,29 secchi, 14 secchi l'ultimo paletto. Brioferm attacca Agodoc, che entra in retta d'arrivo ancora in vantaggio, insidiato dall'avversario. Si inserisce anche Zingaro. Sta passando Brioferm, ma Zingaro a largo lo avvicina sensibilmente. Lotta serrata, Zingaro Doc a largo di tutti va su Brioferm. E in prossimità del palo, Zingaro Doc e Ciro Ciccarelli, nei confronti di Brioferm e Agodoc. Quarto posto per Alighieri-Cla. Quindi affermazione di Zingaro Doc, che aspetta in terza posizione, fa sì che gli altri diano le migliori energie a palo lontano. e in prossimità del traguardo prende la meglio su Brioferm, vicinissimo, anche il terzo arrivato, Agodoc. 2-1-5-3 è l'arrivo probabile ed ufficioso. Media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1-14,5 per il portacolori del signor Oscar Coppola, Giorgio D'Alessandro Senior, un binomio in grande evidenza negli ultimi tempi. E alle redini lunghe c'era Ciro Ciccarelli. Grazie. 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 Grazie.